Paolo Virno. Paolo Virno nasce a Napoli nel 1952, è un filosofo italiano contemporaneo ma è anche un semiologo ed è figura di spicco del movimento marxista italiano del secondo dopoguerra. Insegna filosofia del linguaggio presso l'università di Roma III, trascorre la propria infanzia a Genova e qui si forma politicamente. Negli anni a cavaliere tra i 60 e i 70 il nome di Virno si associa ai gruppi armati dell'estrema sinistra, fino al 1969, anno in cui Virno entra a far parte di potere operaio. Il suo impegno intellettuale per la causa marxista comporta che dal 70 al 72 impartisca lezioni sul capitale di Marx nello stabilimento dell'Alfa Romeo di Arese nei pressi di Milano. Nel 1977, insieme a Franco Piperno e Oreste Scalzone, fonda la rivista Metropoli di impostazione marxista. Nel 1979, nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria nota come 7 aprile, Virno viene accusato insieme agli altri di appartenere in blocco all'organizzazione eversiva costituita in più bande armate variamente denominate. Viene prosciolto solo otto anni più tardi. in qualche modo questa esperienza segna profondamente la sua vita. Dopo diverse docenze, anche all'Università di Montreal, insegna poi filosofia in Italia. Il pensiero di Virno si caratterizza per la convinzione della necessità di un nuovo linguaggio della politica, un nuovo linguaggio in grado di rendere chiare le trasformazioni economiche, sociali e culturali che da più di un decennio caratterizzano le società occidentali. Nell'opera grammatica della moltitudine, Virno introduce una riflessione sul contrasto tra i termini di popolo e moltitudine, una distinzione destinata a generare un'accesa polemica nel secolo presente. Quando di fatto avvenne la formazione degli stati nazionali fu il termine popolo a prevalere e Virno si domanda se non sia venuto il tempo di restaurare un altro concetto, quello di moltitudine già centrale nell'opera di Spinoza e destinato, come sappiamo, ad avere grande successo con il pensiero di Toni Negri. I primi a discutere della contrapposizione tra popolo e moltitudine furono lo stesso Spinoza e poi anche Hobbes. Per Spinoza la moltitudo è quell'insieme di persone che nell'azione politica e in quella economica, pur agendo collettivamente, non perdono il senso della propria individualità, resistono dunque sempre alla riduzione a un'unica massa informe, come invece accade con il popolo. Per Spinoza soprattutto, così nel trattato politico, la moltitudine è la base delle libertà civili. Viceversa Hobbes ravvisa nel concetto di moltitudine il più grave pericolo per l'autorità dello Stato che esercita il supremo imperio. Dopo i secoli del popolo e quindi dello Stato, torna infine a manifestarsi la polarità contrapposta, quella che era stata in qualche modo messa a tema al principio della modernità. La moltitudine diventa l'ultimo grido della teoria politica, sociale e filosofica, forse, spiega Virno. In qualche modo il concetto di moltitudine rappresenta uno dei nodi cardinali della riflessione di Virno. Il suo saggio Il ricordo del presente si apre con i versi della poesia Ritorno di Giorgio Caproni, che racchiudono nella loro poetica l'inquietante fenomeno del déjà vu. Problematica cardine del libro Il ricordo del presente di Virno è la fine della storia, ma poi anche il rapporto tra teoria della memoria e filosofia della storia. Il déjà vu è un'inquietante patologia della memoria, in base alla quale ci sembra di rivivere sempre di nuovo qualche frammento del passato. La fine della storia è l'idea o lo stato d'animo che caratterizza il senso comune postmoderno. Vi è un rapporto tra questo e il déjà vu? La fine della storia ha la sua radice nel fenomeno del déjà vu? Virno, nella prima parte del libro, riprende Bergson e il suo saggio sulle Souvenir du Présent del 1908. Il déjà vu, secondo Bergson, rivela in via eccezionale il modo ordinario in cui opera la nostra coscienza. Mostra ciò che noi percepiamo della realtà, simultaneamente come presente e come passato. Percezione e ricordo nascono per parto gemellare e quel che chiamiamo ricordo non è altro che il presente stesso, visto sotto la specie del possibile, l'intromissione del condizionale in unichet nunc retto dall'inesorabilità dell'indicativo. Le due esperienze simultanee sono solo differenti in natura e non di importanza. Noi facciamo esperienza del presente come reale, compiuto, attraverso le nostre percezioni. Ma, nello stesso istante, dice Virno, facciamo esperienza anche della memoria del presente, come appunto nel fenomeno del déjà vu. Memoria e percezione sono dunque due funzioni coestensive del presente. È solo a causa del nostro bisogno di azione che spesso saltiamo la percezione della memoria in progress per dare spazio alle più utili e contingenti informazioni che ci permettono di orientarci e di agire nella situazione presente. Il déjà vu emergerebbe allora in quei momenti in cui l'azione vacilla e noi possiamo cedere la nostra attenzione alle fessure di una percezione temporale estesa. Per Virno il déjà vu, nella sua modalità di falso riconoscimento del passato nel presente, è una patologia che corrode la genesi stessa del tempo storico come possibilità di riproduzione della vita affrancata da una coazione a ripetere. È lo stesso virus, se vogliamo, che sia insinuato nella negatività delle teorie della fine della storia. Per Virno, come già per Bergson, l'anacronismo che riflette la nostra percezione del presente è solo formale e in quanto tale viene ad affermare la pura coesistenza e simultaneità della potenza e dell'atto, delle generali facoltà del linguaggio e dell'intelletto e della loro declinazione performativa attuale. Se al contrario il déjà vu è interpretato come il richiamo di un fatto passato che sembra ripetersi irrimediabilmente, noi consideriamo il presente passato in un passato reale. insomma, Virno, ragionando su questi temi, prende in esame la questione del postmoderno e del senso della fine della storia.